Buongiorno, io sono Andrea Amato, sono il presidente dell'associazione di volontariato We are Urban, UAMILANO, un'associazione che da 16 anni si occupa della città, riqualificandola, cancellando le scritte vandaliche, ma facendo anche della street art, come alle mie spalle. In occasione della Civil Week abbiamo quindi ripristinato un muro, vino di scritte, e quindi dato un nuovo colore a questa via. Siamo in via delle Forze Armate, quindi in pieno baggio. Questo è il muro dell'oratorio della chiesa Santa Polinare, quindi siamo in pieno baggio. Questo è un ennesimo intervento di riqualificazione urbana, abbiamo fatto anche urbanismo tattico, abbiamo fatto anche altri murales, ma soprattutto questo, quello che non si vede, abbiamo fatto un intervento non soltanto di riqualificazione, ma abbiamo utilizzato anche un prodotto che permette di abbattere l'inquinamento. Quindi questa è anche la novità che ci contraddistingue quando facciamo i murales. Buongiorno a tutte e tutti, sono Ioreca Sorana, assessora alla scuola del Municipio 7. Siamo qui perché abbiamo avviato un progetto che si chiama Parità di Genera Colori. In realtà nasce a marzo questo progetto, è collegato all'8 marzo, la giornata per i diritti della donna. Abbiamo deciso di entrare nelle scuole, coinvolgere sette classi della scuola Madre Bucchi e la scuola Eqbal Masì. Come? Abbiamo portato all'interno un libro, storie della buonanotte per bambini e ribelli, e abbiamo coinvolto due delle protagoniste raccontate in questo libro, che sono Irene Fakeris e Takwa Ben Mohamed. Queste due sono storie di due donne che sono andate contro gli stereotipi di genere. Li abbiamo portate a scuola, i ragazzini e le ragazzine hanno fatto tantissime domande, e hanno stimolato veramente un sacco di ragionamenti. Da qui hanno scelto dieci parole, queste dieci parole compaiono in questo murales che oggi inauguriamo insieme a tutte quanti. Grazie mille. Sono Don Cesare della parrocchia di Santa Pollinare, della scuola parrocchiale. Questo muro era un muro ormai parecchio rovinato, che da tempo aveva bisogno di essere riqualificato, e quindi quando ci è stato chiesto di poter trasformare in un murale questo spazio della nostra parrocchia, volentierissimo abbiamo partecipato. Poi siccome la nostra parrocchia ha una scuola parrocchiale, il fatto di coinvolgere i nostri ragazzi è stato un valore aggiunto, e quindi siamo proprio contenti, anche perché questo è un punto di passaggio importante per Baggio, perché via Forze Armate è sempre frequentatissima, e quindi è un punto prezioso per lasciare messaggi importanti. Volentierissimo, siamo contenti di questa iniziativa. Buongiorno a tutti, sono felice di essere qui con tutti questi ragazzini e queste ragazzine. Sono Silvia Fossati, la Presidente del Municipio 7, così voi potete vedermi in faccia, non ho la mascherina perché siamo all'aperto. Sono veramente contenta che un discorso molto serio come quello della parità di genere sia stato fatto a colori, perché i discorsi seri a volte sono in bianco e nero, invece qui coinvolgendo tutti questi ragazzi e queste ragazze, il discorso è diventato un discorso lieve e leggero, ma sicuramente di insegnamento. Volevo ringraziare l'associazione We Are Urban, volevo ringraziare l'artista Bandinu, se non sbaglio il nome, e poi soprattutto volevo ringraziare le dirigenti e gli insegnanti delle due scuole, perché senza il loro forte lavoro tutto ciò non sarebbe stato possibile. Grazie ad Erika Soana che ha spinto questi ragazzi a lavorare con lei. Vedo che la collaborazione è stata fortissima. Ma mi raccomando ragazzi, un muro così bello va mantenuto bene. Voi l'avete abbellito e io sono sicura che nessuno ve lo rovina. E voi, bravo, lo terrete bene e controllate che nessuno abbandoni i rifiuti, che nessuno abbandoni i rifiuti qui davanti e soprattutto che nessuno lo pasticci. Nel caso ci avvisate in municipio, d'accordo? Ecco, anche i padroni dei cani. Se vedete qualcuno che li lascia in giro, lascia in giro se hai bisogno, diteglielo. Sono Andrea Grieco e do Vimpact di E-World. E-World è un'app che nasce a Torino, arriva alle Nazioni Unite un anno e mezzo fa. In un anno abbiamo prodotto 5 milioni di azioni in tutto il mondo. Siamo presenti in 193 paesi, tutti i paesi delle Nazioni Unite. Ed è l'unica app scelta dall'ONU per guidare le persone a formarsi sul cambiamento climatico e stili di vita sostenibili. Abbiamo deciso di supportare questa iniziativa perché la parità di genere è uno dei principali goal dell'Agenda 2030, che è il nostro core. e ci sentiamo effettivamente di promuoverla in tutte le forme, anche con una campagna globale che si chiama Act Now Speak Up, in cui chiediamo a tutti di fare la propria parte. D'accordo? Io mi fido di voi, eh? Voi siete i guardiani di questo muro e i guardiani della parità di genere. Ok? Ciao a tutti! Ciao ragazzi! Ciao! 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 Ciao!